stasera è un altro appuntamento il secondo giovedì quindi insomma vediamo cercheremo di mantenere veramente questo appuntamento settimanale e oggi dopo aver parlato l'altra volta con con miriam che ci ha fatto questa carrellata della delle orchidee di come riconoscerle no quindi veramente affascinante oggi entriamo molto nello specifico perché parliamo delle specie di orchidee del parco del popio montese del tratto vercellese alessandrino quindi veramente preciso e lo facciamo con paola che paola palazzolo che segue con noi il progetto live for kids per il parco e della nostra esperta di orchidee del pop del parco del popio montese adesso io lascerei la parola a paola così iniziamo e condivido io lo schermo così almeno paola può iniziare allora ciao a tutti io sono appunto paola palazzolo lavoro come guardia parco da vent'anni al parco del po e e sono una naturalista praticamente dieci anni fa mi è stato affidato tutta la flora del parco per cui sto seguendo e facendo i censimenti della flora in generale di conseguenza anche delle orchidee e dall'inizio di quest'anno il mio parco che era il tratto vercellese alessandrino del po è diventato tutto il po piemontese da carmagnola fino al confine con la lombardia per cui ora devo fare i censimenti su tutto il tratto abbiamo deciso di dividere e fare due interventi questa sera sul tratto alessandrino vercellese e la prossima volta a maggio la faremo nel tratto torinese perché si tratta di ambienti abbastanza diversi il tratto torinese è interessato soprattutto dalla dalla collina è molto più boscoso più fresco e per cui non non ci sono le stesse cose io ovviamente appunto in questi dieci anni ho imparato a riconoscere le orchidee che abbiamo da noi nel tratto vercellese alessandrino che ovviamente non ci sono solo dentro le aree protette del mio parco ma sono anche nelle zone limitrofe ovviamente sono se voi vedete la carta le aree protette sono quelle con una un colore più scuro lungo il po ci sono c'è tutto il tratto del po praticamente che ormai è diventato parco da crescentino prima di crescentino fino al confine con la lombardia e poi ci sono delle aree protette più puntiformi verso torino e carmagnola se le vedete perché sono delle aree più scure praticamente nel tratto vercellese alessandrino c'è una pochissima collina cioè praticamente è quasi tutta pianura eh e e ci sono molte zone che sono completamente coltivate per cui ehm la presenza di orchidee è diciamo straordinaria noi l'abbiamo sempre considerata come una presenza straordinaria mentre nel monferrato genericamente e sulla collina torinese la presenza delle orchidee è molto più diffusa è molto più comune ehm quando abbiamo partecipato al live appunto era perché volevamo incrementare questa presenza ehm tanto per dirla tutta eh se passiamo alla successiva diapositiva c'è una eh un elenco di specie che ho preparato qualche anno fa quando abbiamo fatto i piani di gestione delle aree protette eh che è basato sulle osservazioni mie e di tutti quelli che hanno lavorato per lenti in questi anni in più ci sono tutte le osservazioni eh prese dalla bibliografia botanica eh alla fine vengono fuori viene fuori un elenco di ventisette specie non sono tante eh per noi sì perché pensavamo di averne molte meno infatti c'è stato un periodo che facevamo il totto orchidee perché discutevamo su quando non sapevamo ancora quante ce n'erano discutevamo sul numero e poi alla fine abbiamo scoperto che non sono così poche perché pensavamo che ce ne fossero meno ehm come vedete nell'elenco che se volete poi ve lo mando ma potete anche magari fotografarlo potete fotografare il video non so poi se metteranno eh in condivisione tutta la webinar ehm è un elenco eh dove vedete che ci sono delle specie in cui è segnata la zona di presenza accertata eh non c'è nessun nome tra parentesi nessuna data queste specie qui sono presenti attualmente cioè le osservazioni che sono state fatte sono recenti o anche di quest'anno oppure negli ultimi dieci anni diciamo così dieci quindici anni eh invece quelle che hanno una un nome un cognome e una data tra parentesi sono quelle che praticamente sono state osservate venti trenta cento anni fa e non sono state più viste ehm diciamo che questo questo fatto ci permette di dire che noi abbiamo un numero di orchidee che sono da trovare cioè nella nostra zona queste orchidee un tempo c'erano potrebbero esserci ancora qualcuna l'abbiamo ritrovata poi negli ultimi anni eh era stata vista per esempio la neotinea tridentata eh dal negri agli inizi del novecento eh nella zona tra crescentino e trino ehm nella zona di pianura sulla sponda sinistra eh e poi nessuno l'aveva più l'aveva più vista e e l'abbiamo ritrovata mi sembra più o meno cinque anni fa a Ghiaia Grande che è proprio in quella zona lì ehm praticamente per cui tutte quelle che hanno dei delle date e dei nomi nella zona di presenza accertata eh è una wanted come si dice è da ricercare ehm le altre sono da tenere sotto controllo perché alcune sono molto molto diffuse come l'orchis purpurea ehm che è quella che da noi è più presente eh altre invece sono presenti con pochissimi esemplari a volte anche solo due o tre in tutto il parco è vero che è possibile che noi non le abbiamo ancora trovate ci sono ma non le abbiamo trovate però ehm quando negli ultimi anni vista la sensibilizzazione che c'è stata eh sulle orchidee sono arrivate molte segnalazioni eh dieci anni fa praticamente ero da sola ehm adesso sul mio territorio è ovviamente no eh in tutto Piemonte ci mancherebbe altro adesso invece ci sono state molte molte osservazioni e abbiamo cominciato a collaborare con altri con altre persone che girano normalmente alcune delle nostre aree protette eh come Lorenzo Dotti eh che si occupa di tutte le orchidee della regione Piemonte eh per cui c'è stato questo scambio di dati una volta non era possibile ora con i mezzi che ci sono eh con Whatsapp per esempio ci possiamo mandare le segnalazioni di solito appena vediamo qualcosa che non era mai stato segnalato ce lo mandiamo tramite Whatsapp per cui lo scambio di informazione è molto più veloce ehm io non ho messo le località precise dove ci sono le orchidee perché in alcuni casi c'è cioè sarebbe venuta una lista enorme ma anche perché non c'è per molti c'è ancora questo tabù che delle orchidee del posto dove ci sono le orchidee non se ne parla che è una discussione tanti non sono d'accordo su segnalare la posizione delle orchidee eh io invece sono dell'opinione che bisognerebbe far aumentare eh le popolazioni in modo che anche se qualcuno le ruba non succede niente però appunto prima bisogna far aumentare le popolazioni eh dopo la la tabella ci sono delle mi sembra quattro foto ehm di altrettante orchidee che sono quelle bandiera del life ehm praticamente adesso non mi ricordo la disposizione però eh tanto ve l'ho scritto di fianco sì sì ma c'è scritto di fianco non c'è problema loro lo leggono ehm c'è l'imanto glossum adriaticum che è la specie bandiera ed è l'unica specie che abbiamo in direttiva noi nel parco eh per cui è mh diciamo stata utilizzata nel life per per la sua singolarità vedete che ha dei fiori stranissimi eh il suo nome deriva deriva dal greco e vuol proprio dire come se fosse una lingua a forma di cinghia no perché ha un labello inferiore molto lungo e stretto ehm e tra l'altro serve anche per identificarlo e determinarlo rispetto all'altra specie che è l'imanto glossum ircinum che da noi non c'è e poi le altre tre che sono eh l'anacantis morio eh vedete poi le foto che vi farà vedere Simona e mh eh la serapia snegletta che è molto rara e per finire ehm la barlia roberziana che invece eh è una specie mediterranea che si sta spostando verso nord e noi abbiamo l'onore come ente di gestione di avere la non diciamo popolazione perché è semplicemente una per ora una pianta che è stata vista quella che sta più a nord in Piemonte che è nella zona di Camino in collina ehm diciamo che queste queste foto non vi servono per determinare le piante eh vi servono solo come estetica ehm noi abbiamo bisogno tantissimo di custodi senza terra anche per il life e adesso stiamo pensando con l'Egambiente di organizzare un gruppo di appunto di custodi che invece di avere dei terreni e eh con delle orchidee nei propri terreni eh va in giro a fare osservazioni ovviamente per fare delle osservazioni bisogna avere un minimo di conoscenza delle orchidee per cui prima di cominciare bisognerebbe informarsi e imparare a riconoscerle rispetto alle altre piante ehm perché molto spesso non non vi non si riesce a distinguerle cioè se non si conosce la flora l'orchidea è una pianta qualsiasi non sono tutte molto grandi e molto vistose ce ne sono alcune piccoline che magari non hanno come avete anche visto dalle foto non hanno tutti l'aspetto dell'orchidea come magari eh ci si aspetterebbe perché noi siamo molto abituati a all'immagine dell'orchidea come quelle quelle esotiche che si comprano nei nelle serve ehm per cui le nostre sono un po' diverse io appunto eh per cui io so che tra di voi ci sono delle persone che sono già custodi eh chi eh volontariamente ovviamente perché non non venite retribuiti alla passione delle orchidee può può aiutarsi nei censimenti soprattutto a trovare quelle specie che ho indicato nell'elenco ma comunque tutte perché facendo i censimenti poi si possono anche trovare delle specie nuove che non sono state segnalate nella zona mai eh e non di non non voglio esagerare dire che non è mai stata trovata in Piemonte perché ce ne sono alcune che si fa fatica pure a trovarle anche se sappiamo che ci sono per cui a non 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 pretendo che si arriva arrivi fino lì ehm per cui ehm per darsi un'infarinata generale eh ci dovrebbe essere una diapositiva che vi fa vedere la la copertina del libro che praticamente raccoglie tutte le orchidee del Piemonte si vede Simona sì sì si vede si vede ok eh questa è la vecchia edizione sta per uscire la nuova edizione aggiornata ehm per cui se aspettate contattate l'editore trovate l'edizione con più cose ma ci sono anche le cartine di distribuzione aggiornate ehm perché diciamo che questo esclude tutte le altre specie in Italia ci sono più di duecentottanta specie ehm e in Piemonte ce ne sono eh mi sembra ottantaquattro se non sbaglio eh adesso sparo dei numeri però in Piemonte ce ne sono ottantaquattro non sono poche rispetto al totale eh però mh è ovvio che se uno eh vuole girare in Piemonte e cercare le orchidee gli conviene prendere la guida con quelle del Piemonte perché sono molto difficili non sembra ma sono difficili da determinare se non le si conosce bene ehm per cui è meglio avere un elenco un libro che parla solo di quelle che ci sono sul territorio regionale se siete fuori Piemonte provate a cercare perché alcune regioni hanno pubblicato dei volumi simili per esempio mi sembra l'Emilia Romagna ha una pubblicazione di questo tipo addirittura ne è uscita da poco eh una solo sul Cuneese per cui ci sono anche pubblicazioni specializzate in aree geografiche più piccole comunque l'importante è avere qualcosa che descrive solo il territorio che che volete esplorare ehm così vi togliete tutte le specie con le quali potete fare confusione dopodiché dovete imparare a distinguere almeno i generi eh che quello non è difficile eh perché sono hanno delle caratteristiche ben definite per cui i generi normalmente dopo un po' si inizia a riconoscerli senza senza Atlante senza avere l'Atlante eh a questo punto si può anche partecipare a a dei eh così alle segnalazioni che vengono fatte sul web per aiutare appunto eh questi gruppi eh che raccolgono le segnalazioni e poi fanno le pubblicazioni e che servono anche agli scienziati per sapere la distribuzione delle specie ehm noi facciamo riferimento in particolare a eh su Facebook il gruppo eh delle orchidee piemontesi ehm chi è su Facebook che raccoglie praticamente tutte le segnalazioni di tutte le specie di orchidee che ci sono in Piemonte e aiuta anche nella determinazione per cui se c'è qualcuno che non riesce a determinarle può mandare le foto e e aspettare che venga determinata ehm io vi 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 consiglio caldamente quando mandate le foto delle orchidee anche a Simona di fare foto a fuoco prima di tutto perché a volte va sicuro che a volte mi mandano a me sono arrivate foto fuori fuoco di particolari anche solo non dico che voi avete fatto ma alcuni lo fanno e per cui assolutamente c'è una diapositiva che riassume quello che necessita per fare una segnalazione decente e cioè bisogna segnalare la data in cui si è osservata l'orchidea il posto per cui non non sarebbe sufficiente dire il comune in cui l'avete vista in teoria bisognerebbe prendere il punto GPS ehm e i telefoni oriamai hanno tutti questa possibilità per cui avvene in automatico eh però bisogna poi segnalare il punto quando fate la segnalazione e mh e poi fare delle foto a fiori foglie a volte anche sotto le foglie non solo sopra e tutta la pianta intera se è in piena fioritura è meglio perché in realtà ci sono dei generi che eh per essere per determinare la specie bisogna avere tutte queste cose a volte anche di più tipo i fiori di profilo e di fronte le offri spesso per determinarle alcune specie c'è eh c'è bisogno di di queste foto ehm ad esempio le dattilorizza che noi nel parco del Po eh eh vercellese alessandrino il tratto vercellese alessandrino non abbiamo perché sono presente più in alto ehm alcune specie di dattilorizza hanno bisogno delle foto anche sotto la foglia sopra e sotto perché di mh la determinazione si eh prevede anche di di controllare le macchie che ci sono sulle foglie per esempio per cui eh se mandate cioè se ci tenete veramente che la vostra osservazione venga presa in considerazione a livello scientifico dovete fare questo lavoro qua altrimenti è solo una cosa così ehm per vostra utilità cioè io voglio sapere eh questa specie che cos'è faccio una foto come mi viene la mando mi dicono magari il genere se mi va bene la specie però insomma non si sa quando è fiorita non si sa dove eh diventa poi difficile ehm vi dico in certe regioni d'Italia ci sono molte più specie che mh che in Piemonte eh e ci sono per esempio una quantità di specie di Ofris esagerata eh e sono molto difficili da determinare a volte per cui mh alcune specie magari ci sono in una regione e altre no per cui eh bisogna cercare di essere molto accurati ehm al gruppo piemontese su Facebook bisogna iscriversi eh ma non non bisogna avere delle conoscenze scientifiche particolari ehm è gestito da Malita Isaia e Lorenzo Dotti che sono quelli che raccolgono i dati di distribuzione eh di tutte le orchidee piemontesi poi c'è anche un sito Facebook sulle orchidee italiane ehm un altro mh progetto che facciamo il Life Orchids per esempio ha aperto un progetto sul banca dati ai Naturalist che è sul web che si trova sul web ehm lì potete farvi un progetto personale oppure aggiungere le orchidee ehm sul sul progetto Life Orchids se li aggiungete così senza farvi un progetto vengono caricate automaticamente sul progetto Life Orchids via i Naturalist per cui praticamente tutte le osservazioni che vengono fatte su quella banca dati vanno a finire delle orchidee ovviamente selvatiche non quelle eh coltivate vanno a finire in quel progetto lì ehm che però ha le posizioni oscurate per cui solo i gestori possono vedere ehm la posizione in alcuni casi se voi mh scegliete la l'opzione privato potete oscurare completamente la posizione dell'orchidea per cui non la vedrà nessuno tranne che voi ehm io penso di aver finito non mi ricordo se ho messo sì ho messo delle diapositive che vi fanno vedere la schermata principale di questi due siti ehm in modo che li possiate riconoscere ma comunque se ormai tutti usano internet in maniera quasi quotidiana per cui penso che tutti siate in grado di di utilizzare questi due progetti i Naturalist sembra più difficile di quanto in realtà non sia eh e ha un'applicazione che si può mettere sul cellulare per cui le osservazioni si possono caricare in campo direttamente sul progetto facendo semplicemente una foto e assicurandosi che che il vostro telefono prende la la prenda la posizione della foto ehm io avrei finito altre cose non so Paola se vuoi ancora aggiungere qualcosa altrimenti possiamo chiudere così siamo stati più o meno nei tempi poi cioè è stato il covid altrimenti appunto tutti gli anni noi eh facciamo il festival delle orchidee a Pecetto dove viene organizzata un'escursione e questa cosa si può fare anche in altri posti eh tutti gli anni non è obbligatorio farla solo a Pecetto basta trovare un sentiero che in un periodo dell'anno permetta di vedere più specie di orchidee contemporaneamente e che sia percorribile dalla maggior parte delle persone poi si trova si si trova al modo insomma perché degli specialisti che conoscono le orchidee poi si trovano in qualche modo che possano accompagnare altrimenti si può sempre utilizzare una guida naturalistica che si prepara prima sulle orchidee che ci sono quindi grazie a tutti della partecipazione e speriamo di riaggiornarci giovedì prossimo e grazie ancora Paola per la passione nel raccontare le tue orchidee ciao 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 a tutti